Politiche sociali. Il consigliere regionale Franco Mollica, con un'interrogazione al presidente De Filippo, ha chiesto se la Giunta ha intenzione di aumentare il numero di alloggi sociali e cosa si intende fare per migliorare l'ambiente urbano nelle aree degradate o abbandonate delle città, oltre che adeguare e sviluppare le opere di urbanizzazione e ampliare la dotazione di servizi. Il consigliere ha ricordato le proroghe richieste da alcuni comuni ad alta intensità abitativa che dovevano individuare con un apposito provvedimento gli ambiti urbani di intervento sui quali i soggetti pubblici potevano presentare proposte di programmi integrati e nello stesso tempo dovevano approvare un bando ad evidenza pubblica con oggetto la presentazione delle proposte. Attualmente, ha fatto presente Mollica, comuni come Potenza, Matera, Melfi e Policoro, interessati all'avviso pubblico, hanno chiesto la proroga dei termini stabiliti nello schema del bando regionale. Mollica ha chiesto allora le motivazioni dei comuni di ulteriori proroghe e perché, se il ritardo fosse dovuto ad una mancanza di proposte, non hanno presentato al Dipartimento Ambiente della Regione propri progetti. Grazie a tutti.